Asmao presentiamo la nostra nuova piattaforma tecnologica Poliedro. Poliedro è la piattaforma web completamente HTML5 che consente l'accesso a tutte le nostre soluzioni gestionali rivolte sia al mondo dell'azienda sia al mondo dei professionisti. I prodotti sono Alliant Enterprise per il mondo azienda e Linfa Studio per il mondo professionisti. Poliedro rappresenta anche una piattaforma, un portale, un vero e proprio portale che dà la possibilità ai nostri utenti di poter accedere in maniera semplice e intuitiva non solo ai gestionali ma anche quelle soluzioni che possono incrementare la produttività dello studio e dell'azienda. Questo attraverso dei meccanismi di parametrizzazione dell'intero ambiente che facilita anche la modalità che preferisce l'utente di poter utilizzare la stessa applicazione ma non solo, gli dà anche la possibilità di poter definire dei processi di flussi di processi aziendali e dello studio che potranno avere un legame con sistemi gestionali ma anche con utenti esterni all'azienda. Tutto questo sulla nostra piattaforma Poliedro.